qui è il j panther ovviamente bentornati anzi no non bentornati benvenuti su un nuovo gioco oggi siamo smiles morales spider man ovvero spider man manes morales oggi vediamo oggi faremo questo nuovo gioco che non ho mai fatto ma sicuramente sarà uguale allo spiderman che abbiamo giocato tutti quanti ma solo che è l'assistente ovvero questo il mio spider man preferito ma sono più tipo da venom anzi no da carnage invece da spider man però lui spider man è il mio super eroe preferito non spider man peter park è questo qui perché vedete che è uguale a me quella è la mia vera fascia solo che è più cartoon speriamo che mettono max morales sullo shop di fortnite ah il mio morales ora tua madre sta per diventare il presidente ora aiutalo ecco lo spirito dello spider è in inglese perché sono in america c'è anche un uomo uh... buon... c'è un il mio eliseo 6 9 8 i 8 9 9 Chi è la tua madre? No, è Peter. Shake a leg. Ha detto muovi il culo. Volgare. Eppala! No, vabbè, le specie quelle lì, della Nike, tipo, non mi ricordo che loga era. Rockstone? Non mi convince. Quel cosa è un dentifricio? Yuhuu! Eppala, e adesso, stupidaccio! Vedete, è uguale! È ugualissimo questo gioco! È ugualissimo allo Spider-Man normale, solo che è Miles Morales. andale, andale, arriva! Andale, andale! Arriva! Uhuuhuu! Uhuuhuu! Oh, 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 oh! Boom! E adesso... uhuuhu! dai ma perché chiami ancora la mamma mia come fai io mi chiedo con peter parker che come fa a tenere un segreto dalla mamma che almeno è più giovane della zia mei come fa a tenere un segreto che lui è un super eroe che è l'assistente di un altro potevi chiamarti black spider man potrebbe essere molto più figo di spider man o spider boy no ragazzi questo chiama ciao collezco speriamo che non c'è riot no speriamo che non c'è venom perché su spider man il fenomeno è cattivo ma sul suo film è buono e non ti non ti ci vai in testa no 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 oh mio dio dimmi che non è vero se voi sapete chi è scrivetemelo nei commenti perché ho paura della suspense di questo gioco ok oddio raga sicuramente venome e troppe volte venome speriamo che lo colpi speriamo che spiderman lo deve combattere dai ma il su cosa hai fatto ma è normale non il gioco di superiore c'è una dannazione oddio è nooo tutti i galeotti sono scappato quanto è pesante quel colosso no raga è venome sicuramente venome perché venome è anche lui pompato e grosso oddio non è venome raga non è venome no dimmi che non è rai nooo oddio speriamo di non combattere rai no 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 a fino a meno meglio di venom guardare ho più paura di vero macchi die radio di rai no mi confido con rai non rai no guappà dizendo una acqua chi stassate tratti i Buon lavoro con l'elicottero, ragazzo! Posso interpolare le versioni con le ramie del... oh no, Ryan! E vabbè, ammazzate i poliziotti! Se lo scordi, tua madre! Tua madre è quella chiatona di merda! Andale, andale, arriva, arriva! Nooo, sono in Cobra Kai, sai? Andale, andale, andale! L'ho mandato dentro al camion, così gli va in prigione! Oppala, andale! Uh, ha messo la versione da lontano a lui! Così non rischio Ryan! Wow! Ecco! Non bastare di... Uh, grazie a tutti! Guardi dai, sennò quello lì moriva! Oh no, devi seguire Ryan! Te lo scordi il brutto te lo da un corno! Te lo scordi! Guardi dai! Guardi dai, quanto corre Ryan? Cioè, è più forte di Hulk, quasi, quasi! Nooo! Vino c'è lontano a un corno cattivo! Io glielo taglio quel corno! Io glielo taglio quel corno! Io glielo taglio con... E non lo so con una forbice! E glielo inficco in noi il culo! Ah, scusate per le parolacce, però quando vanno dette le parolacce le dico sempre! Ah, questo vi... I video non sono sempre per i miei friend! Rino, non fai il rinocente che te lo taglio quel corno che ti ha cresciuto con la... Con la troia di tua madre! Oggio, Pinta, aiuta mi porca Gesù! Oh! Oh! Ti allontano, Rino! Io ti allontano! Oh no, sono Rino ora! No, se sono Rino è una figata! Cioè, Spider me l'ha attaccato a me ma io sono Rino ora! Ok, io devo abitare Rino! Rino, ti stendo la madre! Oh! No, no, sai di colpire le cuffie, sai! Salve il bambino, bastardo! E dove vai? Purre faccia! Oh no! No! L'arborio di Natale no! Mamma mia, non ha colpito l'arborio di Natale! No! La sedia di Babbo no! La sedia di Babbo Natale no! No! Uuuuh! Madonna come lo odio questo! Ma sta zitto! Ma che squadra meno è più utile di te! Non so dire nemmeno cosa deve dire! Che vieni qua! Che vieni qua! Che vieni qua! Ma! Poteva il vino, stè Hear di trovare! Vieni qua... Un... Un... Un… Un... 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 ok ok mamma ti darò il latte di mucca ok quello lì buono buono quello lì scremato di clients ai latte di ciclo sicuramente è quello nodo no no rai no ti ha buffo di mazzata rai no rai no sta fermo è no vabbè no no ha scassato tutto no dove sono finiti i miei computer semmi il padre del mio cucino preferito luigi ah ne vuoi ancora andale e puni in faccia e caccio in faccia e adesso un altro andale no non caccio in faccia non provate ci sapete madonna sono troppe oh che botta sicuramente è tagliato a metà ora madonna madonna l'ho rotto il peschio andale e andale ma hanno tutti dei tatuaggi nella prigione bomba 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 ci conviene non farlo mai più ok dai no ti ammazzo i mazzate non provarci calcio in mucca no ecco fatto peter spiderman dove sei no non lo è che è la sfivato lei fatto male pp 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 no no scappa pp 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 c'è io che CzyliCause quelli la muscolosi con le armature dai non poi ce l'ho chiamato c'è un segnante del piede di me rino si muore se lo chiede molto rino non muore il punto che ti è morto dai cazzo oh no non ho appena le palle oddio ma è normale che non muoio se vado nelle scosse elettriche no ma rai no non è normale ma no non si è normale tu ti sono fatta da una controllata ciao ecco come mi pigli aia butto figlia di p***o allora l'hai voluta tu allora l'hai voluta tu il calcio nel piede no 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 peggio 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 oh sì ora madonna coglione coglione l'incoglionito tocco io nito è passito che passi e poi è tappata ecco fatto dei bambini infatti una birra una donna un bambino due bambini a un cane che si chiama max tutti i grandi si chiamano max non avete non vi siete resi conto come il mio del tuo pugno dai fai il bravo ma ci è ma c'è da un pugno che te lo ricordi dai no fuzziti dai ti schifo ti schifo eh ho scrivato il sasso ebbala muo fa il salto e muo fa il salto e muo fa il salto bravo a calci in culo lo sto pigliando sto pagnando mamma mia come si nervoso oggi fate pigliando una camorilla oi fa la pasta pasta e sasiccio e fiaghelle ecco cosa che fa mi sto parlando napoletano perché sono andato a napoli no no sono riuscito a maledetto madonna nemmeno sono riuscito a scrivare miei vieni vieni dai 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 ti parla lavoro nooo e boom ne vuoi ancora eh si bravo tenete una scala qua uaaaaaayya mai sfidare il grande gamer mai sfidato la pantera No, 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 no. No, questo è Eddie Brock Jr. di Spider-Man 3 dove c'è la Venom, Spider-Venom. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.